Ciao a tutti ragazzi, sono Diflu di AyoReview Allora ragazzi, volevo, visto che dopo l'aggiornamento non ho ancora fatto una partita fatta bene a questa nuova modalità di Modern Combat 5 che poi tra l'altro tutti conosciamo, è una vecchia modalità di Modern Combat 4, cioè controllo zone Allora, andiamo a vedere che cosa riesco a combinare e a fare Noi siamo la zona blu, noi siamo i blu, quindi dobbiamo cercare di conquistare le altre zone a disposizione ragazzi Sì, ecco mi spara dietro Allora, quindi andiamo alla conquista del territorio A Allora, vediamo di... Ecco che stanno conquistando il Corri, il territorio C è nostro ragazzi Vediamo se... Se mi fanno secco subito ragazzi Ecco che siamo al 40% della conquista del territorio ragazzi 60-70 Ce l'abbiamo fatta, zona catturata ragazzi Adesso ci conviene andarci a boscare subito perché sicuramente verranno ad attaccare il territorio Visto che ovviamente, sopra in alto ragazzi, possiamo vedere i territori conquistati e la conquista in corso Ecco noi uno ragazzi Facciamo lo secco subito Usiamo un drone ragazzi, così riusciamo a vedere se delle bestioline vengono a cercare di conquistare il territorio Allora, al momento ragazzi abbiamo due zone conquistate Anzi, tre zone conquistate ragazzi In questo momento stanno conquistando anche la zona B Quindi dobbiamo cercare di stazionare un po' Io staziono un attimo qui E cerco di mantenere coperto il territorio finché riesco ragazzi Perché è un po' tosta la questione A volte ragazzi si trovano delle squadre molto ben organizzate Infatti è una bella cosa quando ci si organizza tra amici E si riesce magari con specializzazioni diverse Così si è sicuramente una squadra più forte E soprattutto, tipo in una modalità come questa, conquista aria ragazzi È molto bella e organizzata se si fa in quattro amici Sarebbe una bella ficcata Ok ragazzi, comunque adesso andiamo un po' avanti Visto che c'è un altro Anzi, è il momento che ha bisogno di aiuto E noi glielo diamo Comunque ragazzi, cambio zona Perché se no mi sto rompendo un po' le scatole E stare fermo qua Assistente uccisione ragazzi Andiamo a controllare un attimo gli altri territori Vediamo come sono messi Allora, il territorio B sta per essere conquistato Andiamo subito Sbam Carichiamo l'arma ragazzi Andiamo di Andiamo di conquistare subito al volo il territorio ragazzi Conquista in corso Ok, zona conquistata ragazzi Ragazzi stiamo completando la partita anche perché tra l'altro ragazzi Ecco, completata Stavo per dire che in questa modalità per arrivare a fine partita O scade il tempo O si riesce la squadra che arriva prima a 100 punti vince Ok ragazzi Direi che non è andata niente male questa partita Non ho fatto chissà cosa Comunque sia Ho fatto pochissime morti Anzi, pochissime morti Zero morti Ho fatto 5 uccisioni E ho controllato due territori E niente ragazzi Grazie al vostro ascolto E ci vediamo alla prossima partita Che tra l'altro alla prossima partita ragazzi Vorrei fare qualche video sulle pistole Visto che non sbloccate tante E vorrei farvi vedere cosa sono riuscito a combinare Grazie ragazzi al vostro ascolto E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti